Una cattedrale di Siracusa a Stracolma per l'ultimo saluto al campione degli abissi Enzo Maiorca. Ad ufficiare le seque, padre Rosario Lobello, amico di Maiorca e compagno di tante battaglie per la difesa della città. Molte le parole spese per il campione, per l'amore per il mare e la natura, padre Rosario, conosciuto non solo per la sua attività sociale ma anche come prete ambientalista, ha voluto condividere con i presenti le virtù di Maiorca e le tante lotte a difesa del territorio siracusano, in particolare quello della costa marina. Padre Lobello ha detto che è partita una petizione per intitolare al grande campione e alla figlia morta anni fa la splendida costa della pillirina. Al funerale hanno partecipato le massime autorità della città retusea, della regione e dello Stato, oltre a gruppi di volontariato e di cittadini che hanno voluto salutare il re degli abissi per l'ultima volta.